La cantante Donatella Milani, attualmente concorrente di Ora o mai più, ha rivelato di non conoscere l'identità di suo padre. Salita alla ribalta nel 1983 con la canzone Volevo di Occhio, Donatella Milani ha ritrovato l'affetto del grande pubblico grazie alla partecipazione a Ora o in Occhio, in onda il sabato sera su Rai, ma se nel programma ha fatto discutere per la liti con Donatella Eccolo, è bastata un'intervista con Caterina Balivo per rivelare alcuni aspetti sconosciuti della sua vita. Nella puntata di oggi di Vieni da me, la Milani ha rivelato di non conoscere l'identità di suo padre biologico, purtroppo io non so chi è mio figlio. Mia mamma ha avuto un rapporto con quest'uomo, di quelli fugaci, se n'è andato e io sono rimasta con lui, ma lei, per vergogna a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa cosa. La cantante ribadisce di non aver mai saputo chi fosse suo padre, nemmeno successivamente, ma a riportare un po' di serena nella vita di Donatella ci pensa Giovanni, una persona bellissima, dentro il cuore, e viverà il marito della nata, l'uomo più il primo a credere nel talento della cantante. La fece iscrivere a lezioni di pianoforte e gliene comprò uno bellissimo a coda, la Milani rivela di considerare Giovanni come un suo vero padre. Purtroppo la felicità d'Europa, dopo solo 5 anni insieme, l'uomo, all'età di 31 anni, morì un incidente stradale, queste tragedie hanno sicuramente segnato la vita di Donatella e soprattutto hanno permesso che si creasse un rapporto speciale. Quasi sono verificato, con la mamma, anche la madre però adesso non c'è più, se ne è andata pochi mesi a fare. Proprio a causa della malattia della donna, la Milani aveva lasciato la prima edizione di ora ormai più andata in onda nel giugno scorso.